Ciao amici, ciao amiche, ben ritrovati in un nuovo video spesa fatto da Iper ma lo stiamo facendo estremo al parcheggio dell'S Lunga perché mia moglie nella spesa che abbiamo fatto c'erano gli starbucks e i pomodori e quindi siamo venuti all'S Lunga perché mancavano questi prodotti adesso vi faccio vedere la carrellata in macchina di ciò che siamo andati a prendere yeah allora video spesa estremo allora facciamo vedere che abbiamo una, due, tre, quattro, cinque, sei casse d'acqua Sant'Anna naturale da un litro e mezzo poi adesso andiamo a svuotare i sacchetti c'è anche l'ombrellone ancora sì l'ombrellone comunque perché forse dobbiamo andare al mare comunque primo sacchetto adesso non lo svuota la spesa qua allora patatine l'ice extra barbecue patatine gusto piccante marca Iper amica chips buone queste al bacon le ho prese tuo amore amica chips al bacon zig zag ah due queste due di light poi snack france arachidi qualcosa di sano le mie barrette per la colazione light la corcellosità non manca mai questo è il mio marito due tavolette di cioccolato della Novigian con questo l'ho preso io che almeno fa una merenda sana una colazione sana le camille sono buone della mulino bianco che sono meglio che le brioche al cioccolato ecco possiamo riempire il primo sacchetto e passiamo con l'altro allora adesso c'è zona detersivi allora preso questo qua dell'acido detersivo igienizzante colorati 38 lavaggi mamma mia è gigante questo non ho mai visto se vi faccio vedere era uno più uno questo quindi top cioè ragazzi guardate che confezione non ho mai visto così gigante cioè è abnorme questo ammorbidente flacone questo è buonissimo perché è frutti rossi e si fiori di terre e frutti rossi è un 70 seravaggi XXL cioè non so se riesce a rendere cioè adoro ok qua c'è noto un sacchetto solo per il detersivo poi qua abbiamo della vita snella le mie acque le linfe quelle la rivissime non c'erano vero? no quelle proprio allora questa qua sgonfiante con acqua di cactus ed estratto di menta piperita poi le carote una nuova varietà carote verdi dell'Equador sono zucchine ragazzi finocchi che mangiamo lessati e adesso appunto si mangia sano 309 basta in questo sacchetto? questo sacchetto no no c'è ancora qualcosa? no c'è qua aspetta aspetta ok dammi dammi che tanto faccio poi guardate questo è un figlio spese estremo appunto questo è un sacchetto a caso va bene due confezioni di salame conficezzi scusate citerio poi questo per quando ci va di una fila a testa quando ci va di mangiare qualcosa un po' più di particolare sfizioso questo invece è ottimo da accompagnare con dei pomodorini dell'Aia Equilibrium il fior di Mediterraneo ho perso il tattino c'è una rietta che sta arrivando due confezioni poi la mozzarella Santa Lucia Tris non c'era quella light e poi abbiamo preso anche questa qua di bufala questa qua ogni tanto o l'accompagniamo con della carne o nell'insalata quella normale quella di bufala invece è così poi gli actimer questo qua alla fragola scusa hanno sbagliato questo questo lo bevi tu amore questo è fragola non è zero grassi zero zucchero allora questo lo bevi tu amore e tu bevi questi sì perché per fortuna avevo già un'altra confezione vedete questo qua zero grassi zero zucchero al cocco e mio marito beve questo ad esempio problemi di zucchero lui non ne ha quindi ti dico di lasciarli così perché sennò si vanno a confondere cioè li lascio così nella scatola sì metti nella scatola li metto così in frigo e così qua per fortuna che ho altri alla fragola in casa vabbè ora passiamo con l'ultimo sacchetto no ce ne sono altre no l'ultimo quello sotto sotto non è l'ultimo amore questo è il detersivo amore ah ok bene passiamo con l'altro sacchetto allora un po' di scorte per le le imbette pelose ragazzi questo sacchetto c'erano solo i crocantini hai messo tu insieme sì sì allora abbiamo preso 4 5 5 e 6 e 6 queste qua le gourmet mon petit intense questo è tacchino pollo e anatra e poi della ultima nature che ci sia frutta e verdura loro piacciono molto questi qua crocantini poi abbiamo preso giusto così tipo premietto queste qua le sop ah poi c'è quest'altra acqua che esce fuori vita snella quella drenante questa è con cos'è quello il regalo? è un omaggio le linfe questa qua è il drenante con linfa di betulla questa era il regalo già la seconda che regalano basta? basta spesa a me poi pomodori presi adesso è lunga e poi cosa che abbiamo preso? gli starbucks ah sì gli starbucks che se mi aiuti eccoli qua ragazzi vi ne faccio vedere giusto uno perché fa un caldo mi sto tipo i gusti sono gli stessi abbronzando le caviglie due di queste mi hanno presi vediamo aspettate vi faccio vedere anche l'altro dai due di questi perché non c'erano esatto poi poi non c'è nient'altro no ah no qua c'è la gastronomia sì questo nervetti allora io ho preso il salame milano quello fresco un etto e mezzo e mia madre ha preso il nervetti qua ci puole ma il salame milano per te due perché quello là lo otteniamo questo è fresco è un'altra cosa basta niente spero che questo video spesa vi sia piaciuto il giusto l'estremo selvaggio fatto l'essere una qualche gioceruna e ci sperimentiamo col caldo tantissimo caldo la visuale di Trimark bene amici eccoci qua finalmente siamo arrivati a casa ci siamo ho igienizzato tutta la spesa mia moglie ha fatto le ancora delle lavatrici io naturalmente mi devo fare la barba lunga comunque ragazzi che devo dirvi mi dico una novità fa caldo è tornato il caldo ragazzi mi stavo dimenticando che a breve vi farò un mukbang con una ricetta segreta e con un formato di pasta che è diverso dalle altre sempre pasta lunga mi raccomando quando farò questo mukbang lo dovrete vedere perché è veramente un piatto non buono ma di più di più di più di più di più e poi se ragazzi io come posso fare quando vedo sto tempo qua mi piacerebbe fare l'ultimo stavo dicendo l'ultima vacanza ma vacanza mi sa che proprio è impossibile magari un weekend non lo so comunque voi restate sintonizzati perché un qualcosa deve uscire perché vi devo portare in un posto se il tempo regge un posto che forse chi è di Milano lo conosce chi non è di Milano ve lo farò vedere molto bello sperando che il tempo regga e poi ragazzi mi approfitto anche per fare per andare in cava a fare qualche bella pescata perché voglio chiudere proprio prima che prima che l'estate ci saluti voglio andare appunto a pescare ragazzi dunque vi ho detto quello che volevo dire andare anche a tagliare i capelli ribadisco e queste sono le cose ragazzi mucho mucho calor e niente ragazzi poi vi faccio uno spoiler ci saranno non so quanti video all pr e non vi dico altro di mia moglie e basta ragazzi bene amici 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 ho voluto introdurvi anche queste piccole cose qua bene ragazzi io vi auguro ragazzi io spero che questo vlog vi sia piaciuto vi abbia intrattenuto vi abbia tenuto compagnia mi raccomando se non siete iscritti ai canali iscrivetevi anche al mio tiktok instagram tutto quanto io vi auguro buon proseguimento di giornata e spero che questo lunedì sia iniziato bene e possa finire bene io vi saluto a tutti quanti ci vediamo alla prossima ciao